Apple ha appena rilasciato iOS 11.0.1. Vediamo come aggiornare i nostri dispositivi a 64 bit. Bisogna semplicemente andare su impostazioni, dopo su generali, aggiornamento software e attendere che venga rilevato. Naturalmente bisogna essere connessi ad internet. Una volta rilevato bisogna fare scarica install, mettere il codice e attendere che il download sia completato. Manca un minuto. Il download è stato completato, adesso dobbiamo attendere il caricamento della linea. A questo punto facciamo install. Attendiamo che l'aggiornamento venga verificato. Sta incominciando la fase di installazione. Si sta quindi installando l'aggiornamento. Adesso inizio la seconda fase dell'aggiornamento. L'aggiornamento è stato completato.